buona gana salve a tutti ragazzi per una volta bentornati sul canale di leon trip bentornati in un nuovo episodio oggi siamo su un night of the dead cos'è night of the dead night of the dead è un gioco survival in stile mezzo seven day to die no mezzo se vende to die e basta e cioè continua perché ho fatto delle prove e praticamente adesso andiamo fra una partita vediamo di cosa si tratta allora è uscito questo gioco credo che sia uscito ieri su steam credo che costi sui 20 euro circa 19 qualcosa scegli la difficoltà allora io direi che tanto questo qua è una prova direi che teniamo la difficoltà normale però attiviamo la modalità hardcore quindi aspetta fammi vedere survival challenge sfide sfida a leggenda no ma io non sono leggenda quindi andiamo su normale ea il personaggio sarà sempre questo quindi non c'è la possibilità ancora di personalizzare il proprio pg quindi sarà tipo statizia qua che penso sia tipo la sorella di mcgyver adesso andrete a vedere perché tipo con un filo d'erba e un pezzo di legno vi fa una catapulta infernale però insomma adesso vediamo allora ho fatto lo installato direttamente sull'hard disk non sulla ssd quindi caricamenti saranno un po più lenti del solito però insomma ragazzi ovviamente non volevo andare ad intasare la ssd e l'hard disk è un hard disk da 4 tera ci sta un po di roba quindi vabbè installarlo lì anche se i caricamenti sono un po più lenti del solito è lo stesso non ci facciamo la testa prima di rompercela quindi ok la luminosità è un po così eh vabbè che adesso siamo anche in zona di ombra però allora noi sponiamo da questa vicino a questa porta qua e dovremo seguire praticamente il tutorial destroy cars to get allora è tutto in inglese non c'è l'italiano anche perché vi faccio vedere un attimo qui opzioni ecco volevo far vedere c'è inglese francese tedesco coreano russi o spagnolo cinese portoghese portugano eccetera ma non c'è assolutamente l'italiano quindi allora ok adesso i dettagli vanno meglio e ci dice di distruggere tipo le macchine quindi andiamo vicino alla macchina ti abbiamo provato f leggo coltello distruggerà una macchina ed ecco perché la storia di MacGyver ok devo prendere questo distruggi i paper box che sarebbero gli scatoloni a terra per accumulare dati di ricerca ok va bene c'è anche questo tanto quando facciamo le emissioni di tutorial piovanti ci darà anche le delle ricompense queste ricompense saranno tipo oggetti saranno tipo un numero di oggetti tipo che ne so quattro pezzi di ferro eccetera insomma non so perché ma ve li danno allora in alto scusate fatemi vedere se la cam sta sta bloccando qualcosa no allora questo è proprio sotto andremo a vedere insomma se conviene spostarlo oppure no probabilmente sì un attimo eh no vabbè perché ho fatto delle prove ma senza cam porca c'è la miseria quindi proviamo a spostarla un attimino in basso sta cam e vediamo ecco in diretta se adesso non sarà proprio centratissima mi vedere se riesco a fare un lavoro fatto beh vabbè se ne frega allora poi dice destroy the bush to get the tree branch quindi i bush sono i cespugli il bush e quindi andremo a vedere questo cespuglio qua tre branch quindi andremo a vedere tre branch dovrebbero essere tipo questo mi dice spugli eccoli qua questo questo per esempio no no pugni scusa col coltello tira fuori il coltello grazie abbiamo trovato tre branch sì esatto e il wine il wine dovrebbe essere tipo una corda no aspetta no aspetta no aspetta no un aliana ok tipo un'aliana oh si proprio sia aliana ora mi ricordo bene la traduzione comunque distruggiamo questo e poi dice di craftarci un ascia rudimentale Filling Vabbè Ok credo che sia la nostra classica ascia La prima ascia insomma Riprendiamoci un po' di pietre per terra Accogliamo un po' di sassi E Là c'è un camion che Ecco vedete tipo questo Questo qua è un libro Take Vi da Ehm Facciamo prego la J Il nostro journal E qua potete leggere tutto Vedete J1 Con C'è un frammento di mappa E questo qua tipo Penso sia la storia Del gioco Quindi adesso non Non ci interessa in realtà Dunque ce l'abbiamo Una volta che la scopriamo Ce l'avremo sempre Questo libro Anche se rimane lei a terra Quindi prendiamoci queste cose qua Adesso andiamo a craftarci un'ascia Ehm Una cosa che volevo dirvi Era che lassù in alto a sinistra Abbiamo vabbè L'indicatore rosso con il più Cerchiato Che ovviamente ragazzi È la nostra vita Poi abbiamo L'indicatore giallo Con il cuore È la nostra Ehm Stamina Scorriamo scende E Non c'è Fame E sete Ma c'è Ehm Quel indicatore con il pugno Cerchiato Che Sta ad Indicare 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 la nostra Non forza Non resistenza Com'è che posso dire Tipo la nostra Forma fisica Quindi ecco Forma fisica Sarebbe più corretto Qua vedete che È un indicatore Attacchette Quando un'attacchetta Si svuota Vuol dire che noi stiamo Praticamente Calando di forma fisica E quindi Di conseguenza Si abbasserà Sia la nostra vita massima Sia la nostra Stamina massima Possibile Insomma Cioè Poi comunque Non so se Prima di tempo Vederlo Ma vedrete che La barretta della vita E quella della stamina Non andranno mai Oltre l'indicatore Che è Tacchettato Insomma Quello bianco Ok qua Non abbiamo più niente Da prendere Mi sembra La strada L'abbiamo praticamente Ripulita Le macchine Le abbiamo scassate Potremmo vedere Se c'è qualcos'altro Che ci siamo persi Però Ok Allora Là come potete vedere Ci sono delle case E noi adesso Andiamo a craftarci Un'ascia Allora Fatto a mano Per voi Qua Vedete Questo qua è Il crafting manuale E quindi Ci sono Poche cose Da craftare Quindi abbiamo solo L'ascia Il piccone Il martello Le frecce E i dardi Per adesso Andiamo a farci un'ascia Come ci aveva detto lui Abbiamo il materiale per farci La craftiamo Istantaneamente Viene craftata Non c'è tempo di crafting Abbiamo la nostra Accetta Che possiamo usarla Per distruggere Gli alberi E ricevere Dei log Log Tronchi Ok Deveva essere Tronchi Aspetta un attimo Troviamo Troviamo anche questo A terra Che ci dovrebbe dare Un tronco Se per se E' esatto Allora I tronchi Non sono proprio così Necessari Come sono necessari Più che altro I Quelle liane Che avevamo Trovato prima Quelle servono Praticamente Per tutto Per tutto Ah no Era l'albero Ok Allora l'albero Adesso vi faccio vedere Ragazzi quando cade È anche abbastanza realistico Non è alla Seven day to die Perché guardate Se vi faccio vedere Quindi questa è una cosa fatta anche abbastanza molto bene Guardate vedete Perché lui cade Tac E we go Cade abbastanza realisticamente Insomma Non tanto quanto Vabbè ovviamente Se ci cade addosso Non ci fa niente Però E' abbastanza Mi spiace L'abbattimento degli alberi Fatto bene Tra l'altro vedete Si appoggia sui rami Quindi Tac tac Ha fatto la sua Questo è ferro Ma Non possiamo raccoglierlo Perché Non so se possono distruggere Questi pali In realtà non ho fatto delle prove A distruggerli Perché Non ci ho pensato Però Magari Ci riproveremo Adesso appena riusciamo a Craftarci un piccone Allora Una volta che abbiamo preso Questi alberi Ci dice Di Craftare Una foundation Allora Vediamo un po' sta foundation Se riusciamo a craftarci La qua Ragazzi sono funghetti Lo possiamo raccogliere Ce ne sono di vari tipi Questo per esempio Quello bianco Ci sono Quelli Quelli marroni Quelli rossi Quelli gialli Con un sacco di funghi In giro Non possiamo Credo Mangiarli Tutti Singolarmente Penso Quelli bianchi E quelli marroni Si Tutti gli altri No Però possiamo utilizzarli Per fare tipo Una specie di Di Zuppa di funghi Che andremo a farla Quando Avremo la cucina Adesso Ci può craftare Un sacco di cose In questo gioco Tipo Vari tavole Da lavoro Come La cucina Il tavolo Per Craftare i materiali Il tavolo Per Craftare le armi Il tavolo Insomma Per L'ingegneria Il tavolo Da ricerca E adesso Comunque Ragazzi Cerchiamo di fare Un po' di spazio Qui E Andrei A Vediamo Lì c'è la macchina Io farei Una Casa Qui Ecco Qua Qua Dai Che dite Qua Però prima dovrei liberare un po' la zona Quello ho fatto Allora La foundation La farei qua Proprio sul ciglio Della strada Poi mi alzerei E Ok va bene Sì 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 Facciamo così Tanto tolgo Queste cose Eh sì Perché purtroppo Che è passato Cos'è quello È un coniglio Quello Avete visto Attenzione È un coniglietto Allora Ci sono i conigli Ci sono I lupi Ci sono i cervi C'è anche la caccia da fare Come early access Considerando che è un accesso anticipato Ed è uscito Praticamente due giorni fa È abbastanza completo Mi piace Abbastanza questo gioco Insomma Poi vi spiego anche un'altra cosa Allora Dobbiamo fare Apriamo il nostro menu con la B Andiamo sulla casa Andiamo su pavimento E costruiamo la nostra prima foundation Diciamo build Costruisci E Io direi 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 Di costruirla Qua Così 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 dai ci sta Che dite Va bene Con la Q Lei la possiamo alzare E abbassare Così è troppo bassa Andiamo ad alzarla Di Due livelli Fai anche tre No due livelli Dai così E Andiamo a vedere Se riesco a fare Così Così mi sembra una stronzata Fatemi vedere Va O se no anche così Non lo so Vabbè Dai facciamo così per adesso E poi vediamo Ok E uno è costruito Facciamoci anche l'altra Allora Vediamo un po' Tac Tac Sì esatto Anche l'altra E qui andrei a fare Una questa Così E Come potete vedere Adesso è viola Quindi vuol dire Che abbiamo finito Dei materiali Vedete non ce la fa più craftare Quindi cosa I materiali ci mancano Ecco come vi dicevo Queste specie di liane Che Sono tra l'altro Difficile da trovare Vengono droppate Da questi cespugli Ma casualmente Ok Proprio giusto Per farcene un'altra Vediamo se No con la B Apriamo Floor Foundation Build Perché no? Cosa manca? Scusa Cos'è che manca? Ah Uno di questi è Quattro Aspetta un attimo Due ne abbiamo No quattro Aspetta un attimo Io qua C'è qualcosa che non va Perché Ah Servono Tre log Per farne una Su serio Cacchio Scusate Allora La raccolta di risorse Non è esattamente Proprio così Immediata Come potete vedere Perché Dovremmo Skillare Allora Quanti Tri Hai preso Log Qua Abbiamo preso Dei seed Delle foglie Là ci sono Degli zombacci Però Attualmente Li lascerei un attimo Stare Perché Ora che ci spacchino il culo Abbiamo un coltello Cioè non è che Poi tra l'altro Abbiamo attivato La modalità Arcor Vuol dire che Se moriamo Ragazzi Il mondo viene Resettato Cioè non c'è la possibilità Di respawn Ok Allora Io qua adesso Andrei ad attivare La modalità Crafting Ok adesso possiamo E qui Grazie Allora abbiamo la modalità Vedete calamita Perché Quando viene piazzata La fondamenta Si attacca alle altre fondamenta Oppure potete disattivarla Cioè premendo il tasto Alt E lui Questa è la modalità Costruzione libera Quindi anche se siamo vicini Non Non interferisce Cioè non li va ad attaccare Allora Qua facciamo così Esatto Ok Poi io vorrei andare Avanti qua E avanti di là Quindi facciamo Uno qui Poi uno qua Uno qua Uno qua Uno qua Uno qua Uno qua Ecco la porta Ok Si 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 Mi piace abbastanza Allora Poi ci dice di craftarci Delle scale Scale Che io andrei A fare Diciamo qui Ok Quindi qua saranno Le nostre scale Saliremo da qui Con le scale E Vedete che adesso Non possiamo salirci Perché forse Tirisci da qua No Troppo Troppo basso Le scale Andiamo a vedere cosa serve Per fare le scale Per fare le scale Ci servono Tipo queste Qua da pollo No ce le abbiamo già Ok Le scale da pollo Allora Allora La mettiamo così Di vasto effetto Con alt Calamita Ecco qua Snap Perfetto Non attaccamole qua E andiamo giù 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 Ecco così Penso siano sufficienti Tanto si compenetrano Nel terreno Ok Abbiamo la nostra Prima base Allora Vorrei Fare un'altra Base Da due qua Qua Due Uno due Venire avanti Sì Perché la casa Poi ci penseremo ragazzi Come crattarla Proprio la casa Fatta in maniera Prepotente Queste ce le prendiamo Perché qua ci sono Punti ricerca Adesso dice Vabbè Accendi la luce E spegni la luce Turn light on Off Va bene Quindi con la L Andremo ad accendere La nostra torcia Che abbiamo In dotazione Insomma Ce l'abbiamo Qua Vedete Di fabbrica Con la L La accendiamo E la spegniamo Con la M Si apre la mappa Che è questa ragazzi L'abbiamo visto prima Insomma Ehm Può spostare Sì Noi siamo qua E questa è la nostra mappa E Create equipment Product table Ok Adesso ci proviamo Non so cosa serve per farlo Questo equipment Product table Però Diciamo che Se qua ci va La nostra porta Allora qua ci va la porta Ok Quindi qua Possiamo Va bene Nel frattempo Andiamo a fare questa Crafting product table Che Credo che sia qui Equipment Product table Cosa ci serve Ancora sti cazzo Di log Va bene Adesso andiamo A tirare giù Due Poi ce la facciamo Allora Intanto vi spiego Un'altra cosa Ragazzi Come potete vedere In alto A destra C'è un contatore Con la morte Con Una Diciamo una morte Nel Mezzo al cerchio E Una barra Che pian piano Si sta riempiendo Che cos'è questa barra Insomma Questa barra È Il Tempo Che Mancherà All'arrivo Della Prossima Orda Si perché dovremmo Sopravvivere ad un Orda Di zombie Che arriverà Non come se Vendete Tu dai Cioè Ogni sette giorni Ma qua arriverà Tutte Le Fottutissime Notti Ok Quindi ogni notte Ogni 24 ore Credo Ci sarà un'orda Di zombie Che verrà A cercare A provare Di spaccarci Il culo Allora Quindi dovremmo cercare Di Erigere una difesa E Cioè Erigere una base E difenderla Anche Quindi avremo anche Delle difese qua Vi faccio vedere Qua c'è Delle trappole Melee Qua c'è Il fuoco Anche Si vabbè Per illuminare Vabbè Queste sono decorazioni Non importano La bandiera Queste sono le chest Ci sono un sacco di cose Per adesso E Quando faremo Le crafting table Che cacchio sai Questo Production E questo che devo fare Fatti vedere Production table Si Quando faremo Anche le altre Allora Questa la mettiamo Un attimo qua E E Qui E qui Qui mi piace Perché poi si vuole rimettere la porta In realtà Per entrare Quindi si entra qui E qui c'è la nostra crafting table Ok Questo sarà praticamente solo l'ingresso Della nostra Ok Nella Craft E Come si chiama qui Bench E qui Nel banco da lavoro Per equipaggiamento Penso si traduca così Possiamo farci diverse armi Come La Ascia A una mano La Lancia L'arco Però ragazzi Qua ce ne sono altre Quindi abbiamo I dardi Per la ballista Credit ballista Volt Dardi avanzati Torcia Vabbè poi qua abbiamo le molotov I 3 bucket Credi che siano Pallettoni Rifle Sarebbero cartucce per fucile Ascia da lancio Dinamite Abbiamo un sacco di cose Vedete qua abbiamo Tutte le sacche munizioni Delle materiali Più uno coltello Più uno lascia Abbiamo vari upgrade Qua abbiamo La possibilità di craftare Ah no Cos'è sta roba A disassemblare Ah si Possiamo praticamente Distruggere l'ingotto Di Perro Per ricavarne I materiali Precedenti Insomma Che servono per farlo Sto lingotto Vabbè Molto utile anche quello Allora Adesso ci dice Di equipaggiare Ah no Di costruire un arco Va bene ragazzi Costruiamoci un arco Cosa serve per farlo Se sono queste wine Che ora andremo A vedere se ce le danno Cosa facciamo prima A fare così O Con l'ascia Se Prenderle però Sti cespugli Non lo so Con l'ascia Con il coltello Raga Secondo me Il tempo è uguale Lo stesso Vedere Mi sa che il tempo È più o meno Quello Ok Adesso andiamo a costruirci Sto arco Poi proveremo A vedere Dirò un attimo In pausa il video E io andrò Praticamente A finire Sta piattaforma Allora Facciamoci l'arco Vai Arco fatto Lo mettiamo Sullo slot 3 Il problema È che L'arco senza frecce È abbastanza inutile Quindi facciamoci Delle frecce Ne facciamo 15 Ok 15 frecce Adesso abbiamo Il nostro arco Giusto Ok 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 si E proviamo ad accoppare Qualcuno Per adesso Vediamo un po' Allora Non è una gran genialata Però Guarda che Mi serve il colpo sicuro Quindi si deve fermare Questo tizio Allora Vabbè Al culo Colpo sicuro Comunque l'abbiamo preso In testa Guarda che Guarda come corre Guarda come va Oh Che Ok Non mi ha sentito In testa Il colpo c'è In testa Il colpo c'è Ok Mi recuperi le frecce Please Allora Le frecce Si recuperano Ragazzi Però Non so Si recuperano Tutte Allora Qualcuno Potrebbe anche Andare Persa Block Un attimo Che Ci guardiamo Un attimo Intorno Ma Non vorrei Mai che qualcuno Perché Ci sono questi qua Ma questi sono scarsi Ragazzi Ci sono anche Quelli forti I zombacci Sono quelli Che Con l'archetto Non ci fate niente Ora io Come detto Ho fatto una prova Anche per i settaggi Per tutto il resto Ma Quella è una volpe Quella è una volpe C'è la volpe ragazzi Salio Un momento Volpe Eccola 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 No Volpe Si fermi No Non può essere più furba di me Però è una volpe Quindi è molto probabile Aspetta Cazzo È una volpe È una volpe poi È un micio Mi sembra una volpe La volpe Attenzione la volpe È la volpe Oh la volpe Mamma mia Che cazzo di tiro Che c'è a starco Però avete visto Cioè La posso direttamente Mirare sta volpe No No Non è proprio semplicissima La volpe Da far fuori Mi sa che la volpe Ragazzi Rimane Rimane volposa Perché Rimane viva Io ci provo Ma porca miseria Ma vuoi stare un attimo Ferma Stupide volpi Guardate Mi prende proprio Per il culo Ebbè È una volpe Volpe Mi dispiace Ma Niente Olè Niente È avvicina ancora Anche se Non c'è Una gran cosa Questa da fare Perché Ma dove cazzo Stai andando Volpe Basta La faccio incazzata Oh L'ho pigliata L'ho pigliata Ok Meno male Meno male che stava venendo Verso di me Perché Altrimenti non l'avrei mai presa Ok La caccia è andata Ha veramente fatto schifo La caccia Però comunque abbiamo perso tempo Fa sta stronzata E il problema è quello Allora Volpe Grazie Mi ridia le mie frecce Ok Comunque ho visto che le frecce a farle Ragazzi Cioè le rifate Con poco Quindi Non è proprio che abbia molto senso Farsi Recuperare le frecce Ma Comunque Visto che adesso si può La riprendiamo Va Ok Poi c'è un'altra 12 Bene abbiamo perso solo 3 Quindi ottimo Ritorniamo la nostra accetta E facciamo fuori questi Si può? No non si può Qui ci sono delle Ecco Per esempio Anzi non me lo posso perdere No No Mamma mia sto cazzo di gufetto L'ho pigliato? Pigliato mi sa Grande gufetto Va bene Abbiamo buttato via un sacco di frecce Ma comunque ragazzi avete visto che Sanno facili le frecce Allora Torniamo alla nostra base Per il momento Che è veramente una base Perché è una Sorta di Due robe buttate lì Due pezzi di legno buttati a terra Ok E ci dice Di costruire Lo sleeping bag Quindi Come si fa a costruire Lo sleeping bag? Non ne ho la minima idea Però adesso andremo a vedere qua Utility Lo qua Sleeping bag Abbiamo tutto per farlo Lo costruirei giusto qua Adesso piazzalo lì Lo sleeping bag Ok Revival point Il set Ma noi non ce ne facciamo niente ragazzi Perché se moriamo Non possiamo rinascere Perché è la modalità Hardcore Quindi Poi Crea una Trappola per animali Piccola Andiamo a fare così Con la B Una trappola per animali Piccola Qua Mili Animal Animal trap Servono le foglie E Un sasso Ok Vediamo se voglio un sasso Poi ragazzi Ci salutiamo Perché Il video Arriva Arriva ad essere Abbastanza lunghetto Ok Facciamo questa cosa Ragazzi Poi Dobbiamo lasciarci E' un sasso Allora il sasso l'ho trovato Ok Le foglie Non saprei Ok Adesso che ci siamo Prendiamo anche Un po' di questa roba E il sasso C'è Quante foglie 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 Ne abbiamo 20 Ok Bastano ragazzi Sono sufficienti Una trappola per animali Piccola detto Quindi noi ce la mettiamo Qui Trappola per animali Piccola E Così Aspetta no Cazzo faccio Così Così Animal Trap Questa Perché non ho un sasso Boulder Ho trovato il sasso Cos'è il Boulder Punto di domanda Boulder Boulder È tipo una pietra È tipo una pietra Se io faccio Il piccone Guardate Ok Il piccone Picconiamo questo È qua che si trovano È qua che si trovano i boulders Vediamo Eh ci vuole un po' Ok Perfetto Allora la mettiamo qua Avevamo detto La trappola Per i piccoli animali Sì Facciamo così Così Animal Small Giusto Ha detto Small Speriamo Sì Small animal trap La mettiamo così Mettila anche qua È lo stesso Girata così Ok È una Trappola Ad archetto Lì Come cavolo Si chiama Vabbè Li avrete sicuramente visti A farle in Nudi e crudi Ste cose Quindi Molto bene ragazzi Per Questo episodio È tutto Io vi lascio Qui Fatemi sapere se volete vedere altri episodi Se volete andare avanti in questo gioco Mi sembra abbastanza molto interessante C'è un sacco di cose da vedere Ancora non abbiamo visto praticamente niente Forse un altro episodio Ah ecco Avete visto qua Qui No non si vede Vabbè Porca caccia la miseria Qua Ok È calata di un'attacca La nostra Forza La nostra È la nostra forma E quindi Sia vita che stamina Ne ha risentito Perfetto ragazzi Quindi ci vediamo alla prossima Fatemi sapere Qua è stato nei commenti Cosa ne pensate Ce l'ho trovato interessante Questo gioco Per il momento Io mi fermo qui E Grazie a tutti per essere Stati con me E ci vediamo Alla prossima Leon Tripe è tutto La buona gana L'ho mancato Perfetto Perfetto Grazie a tutti.